buongiorno nuovo vlog oggi perché ho da dirvi delle novità sul canale lo so ultimamente vi devo dare sempre delle novità sul mio canale però forse siamo arrivati a una decisione definitiva pensavo di averla già trovata invece riflettendoci forse è meglio fare come ho pensato come vi voglio dire in questo vlog non parlo fortissimo sempre per il fatto che aurora è di sopra che dorme lo so dorme sempre però riesco a vloggare proprio in questi momenti visto che ho le mani libere e non devo stare troppo attenta a guardarla perché davvero ve l'ho già detto ormai sta quasi praticamente iniziando a camminare o comunque si muove da sola si sposta da sola va di qua va di là e bisogna avere mille occhi lo dicono tutti ma è così bisogna proprio guardare ogni minimo passo ogni minima mossa soprattutto con le manine che si ritrova perché è una curiosona qualsiasi cosa trova la deve andare a toccarla deve andare a scoprire e io sono contentissima che sia così perché i bambini che sono curiosi sono anche più facilitati nell'apprendimento delle cose sono entrata un po' nella teoria di quello che ho studiato all'università però è così la teoria in questo caso è anche nella pratica comunque prima di raccontarvi le novità che ci saranno sul canale vi ringrazio perché ultimamente stiamo pian piano crescendo e io sono super felice non solo perché appunto stiamo crescendo ma perché vedo che le persone che mi seguono amano quello che faccio sono sempre molto educate molto carine io veramente vi ringrazio di cuore e a proposito del canale ho appena caricato un video non vi dico qual è anche perché non so quando uscirà questo vlog qui accanto a me c'è sempre Leila che dorme ma va tanto per cambiare ve l'ho detto lei praticamente tutto il giorno sta lì ovviamente quando è bel tempo va in cortile gioca si scatena abbaia rompe un po' le scatole ogni tanto però qua è il suo posto preferito vabbè quando c'è il sole le piace anche prendersi il sole però poi dopo un po' ecco iniziamo con i messaggi vediamo chi è ok posso rispondere dopo perché sennò perdo il fio del discorso ma l'ho perso ugualmente cosa stavo dicendo ah sì che alla fine lei ama stare qui quando c'è il sole si mette fuori prende il sole però dopo un po' se ne va perché ovviamente sente caldo e comunque il sole troppo sole per i cani non fa sempre molto bene un po' sì ma non troppo e nulla io stamattina sono già uscita perché avevo da fare una commissione pensate che avevo portato ad aggiustare due ciondolini della brosway che mi sono stati regalati al mio compleanno dopo un mese avevano già perso dei brillantini e quindi li avevo portati a riparare visto che erano in garanzia ed era novembre fine novembre siamo a marzo inoltrato e non mi avevano ancora chiamato però io ho detto vabbè vado a vedere perché ok che non mi chiamano ma vuoi che non ci siano dovevano solo inserire due o tre brillantini su questi charms sono andata già non trovavano niente ho detto vabbè e la commessa mi fa guarda che magari ci vuole ancora un mesetto io faccio guarda che è da novembre che ti ho portato i ciondolini non è che ci vuole una scienza a appiccicare due svaroschini comunque poi alla fine hanno trovato il mio pacchettino ah sì volevamo chiamarti certo questa è la classica scusa delle commesse sicuramente era arrivato ieri o comunque di questa settimana perché mi puzza un po' il fatto che volevano chiamarmi proprio nel momento in cui sono andata io a ritirarli comunque finalmente ho i miei ciondolini stavolta starò un po' più attenta perché io come ben sapete questo genere di bracciali con i charms simil pandora li uso sempre infatti vedete ce li ho sempre sempre addosso a dormire a farmi il bagno qualsiasi cosa io ce li ho lo so che potrei anche evitare perché potrebbero rovinarsi siccome è successo però è così ma stavolta aspetto ad inserire i ciondolini proprio perché avendo i brillantini non vorrei che di nuovo fra un mese mi succede il patatrac che devo riportare tutto e aspettare un anno perché non lo so ci vogliono mesi e mesi per fare un lavoro da cinque minuti che potrei fare anche io però visto che sono in garanzia li porto e mi faccio fare un lavoro decente niente adesso faccio due lavoretti al pc perché devo anche rispondere a delle mail di alcune aziende e aspetto che aurora si svegli così poi le do la merenda perché non è mattino ho iniziato a vloggare primo pomeriggio perché appunto stamattina avevo da fare non riuscivo sinceramente a iniziare la registrazione comunque ce l'ho fatta ce l'ho fatta perché aurora dorme e quindi niente faccio i miei lavoretti al pc e poi andrò a svegliare aurora se non si sveglia di suo perché ultimamente fatichiamo sia ad addormentarci che poi a svegliarci sono giornate un po' così è bravissima non posso assolutamente lamentarmi perché è brava 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 però a volte quando non riesce ad addormentarsi è proprio una grande fatica stessa cosa quando non si sveglia a me non piace svegliarla però quando vedo che dorme troppo al pomeriggio evito le due ore oltre le due ore perché sennò poi non voglio sballare l'andamento della giornata ci vediamo dopo magari poi vi mostro aurora sicuramente ve la mostro perché voi siete curiose e sapete che a me fa piacere mostrarvela e ci vediamo dopo l'altro giorno facendo la spesa ho trovato questi fazzolettini che non avevo mai visto non conosco neanche il marchio li ho trovati al conad però mi ispiravano tantissimo perché come potete vedere sono sensitive care quindi molto delicati però all'essenza di lavanda c'era anche da scegliere camomilla e non mi ricordo perché quando ho visto la lavanda ho detto no voglio assolutamente provarle nonostante io sapete che non amo particolarmente la lavanda però per certe cose sì sono un po' contraddittoria ma vi devo promuovere questo prodotto infatti ve l'ho mostrato per questo motivo perché se li trovate se vi piace il profumo di lavanda è un po' troppo intenso però se non siete allergiche ve li consiglio perché sono fenomenali questi fazzolettini davvero sono ottimi sono anche abbastanza resistenti e niente sì forse sono un po' troppo imbevuti come profumazione a tratti ricordano un po' i deodoranti per l'ambiente però vi devo dire che sono ottimi veramente yeah approvati se invece avete provato questi fazzolettini fatemi sapere se vi sono piaciuti come a me perché davvero sono wow adesso inizia per me la stagione delle allergie che bello e vediamo se mi daranno fastidio perché appunto il profumo troppo intenso potrebbe causarmi un fastidio un po' più forte al naso però per ora va tutto bene è veramente buonissimo proprio questa profumazione ti dà anche un sollievo non lo so non c'era al mentolo perché se no avrei preso anche quello per quando sono raffreddata o il naso chiuso perché se l'intensità dell'essenza è così wow magari la prossima volta che vado a fare la spesa controllo però non mi sembrano perché c'erano tre fragranze tra cui appunto la lavanda ma il mentolo non mi pare vedremo magari provo tutte e tre le profumazioni così poi vi aggiorno e vi posso consigliare la migliore questa è il top nell'attesa guardo uomini e donne chi l'avrebbe mai detto? fatemi sapere se anche voi lo seguite cioè la versione over non è che mi piaccia granché sinceramente io preferisco i giovani però così come sottofondo visto che appunto come vi ho detto sto lavorando al computer come sottofondo ascolto e ogni tanto mi faccio qualche risata perché davvero fanno delle scenate fanno vedere e sentire delle cose che oh mio dio però è così nulla Aurora non si è ancora svegliata quindi è arrivato il momento di andare purtroppo a disturbarla però ha dormito abbastanza quindi è così quindi andiamo insieme piano piano per non traumatizzarla troppo Aurora buongiorno buongiorno amore col ciuccino oh hai visto che mamma ha cambiato le lenzuola abbiamo messo la copertina che bello metti la musica fai sentire un po' brava oh tenerina piano canti amore cosa c'è cosa c'è adesso facciamo merendina e poi usciamo eh sì hai visto che ci sono i bimbi sulle lenzuola pulite guarda quanti bimbi guarda che belle queste pensate che erano le mie lenzuola di quando ero piccola che sono meravigliose mi si che ridere eeeh bimbi quanti bimbi oh sì tanti tanti quelli sono bimbi angioletti più non c'è più la musichina ha finito vuoi mettere ancora un po' tira aspetta vai tira lì la musica bravissima riprendiamo il ciuccio bello eh quel ciuccio che si illumina io starei ora a guardarla sono proprio innamorata eh sì amore cosa fai cosa fai sa prepariamoci che sennò facciamo troppo tardi che fai rimetti il ciuccino amore è bello guardate che c'è un neurono coccolina sì spegniamo questa cosa fai un ciao fai ciao brava ciao ciao bevi l'acqua che buona l'acqua eh sì ed ecco qui la merendina di oggi oggi mangiamo i frutti di bosco yeeeh e ora biscottino vediamo quanto dura se no là c'è già lei la che aspetta eh ridi ridi com'è è buono buono cucù eccoci che siamo tornati a casa di se ci cambiamo eh cosa fai ti scateni brava l'equilibrio brava oppola eh cosa hai fatto in testa vai vedere sembri rossissima cosa hai combinato la scimmietta come fa la scimmia oh come sei rossa non vi spaventate perché è solo rossa così tanto in camera nella realtà no fai paura non so non si è fatta male perché non ha eccola non ha pianto ma penso che sia stato qualche cosina di duro che si è data in testa oh sa adesso ci cambiamo se no crepiamo dal caldo con la giacca facciamo vedere come stiamo col cappuccio da non so che animale fai un po' cucù cucù piano vedete come si agita normale che poi c'ha queste cose rosse everywhere calma calma ora sistemo lei sistemo me e poi vediamo cosa fare penso che giocheremo perché come potete vedere è bella attiva bella sveglia e bisogna intrattenerla in qualche modo guarda lì la protagonista che si gira per essere ripresa cosa fai piccola protagonista si fai ciao ciao che ci cambiamo aiuto mi prendono la maglia aiuto mi spogliano boing 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 ok ho ritagliato un minimo 5 minuti forse di tempo da appunto dedicare a voi perché come vi dicevo all'inizio del vlog volevo aggiornarvi un po' sui nuovi cambiamenti spero gli ultimi cambiamenti che ci saranno molto molto a breve sul canale ho deciso per cercare di agevolare a voi la vista di tutti i miei video di fare due video a settimana quindi non saranno più tre video ma due spero che vi faccia ugualmente piacere vedere i miei video anche se ce ne sarà uno in meno però ho pensato che facendo così forse avete più la possibilità di guardare appunto i video visto che sappiamo che le visualizzazioni sono calate così perché youtube ha fatto dei change e ho anche visto che comunque girare tre video per la settimana non è che mi è difficile però più che altro è il fatto di editarli e soprattutto cosa che vi ho già detto negli scorsi vlog la connessione è un po' un problema adesso come avevo anche già detto nell'ultimo vlog ho fatto la chiavetta internet da aggiungere all'internet che ho già in casa perché non voglio più impiegarci giorni nel caricare su youtube dei video non ce la faccio tenere acceso non 24 ore il computer ma giorni e giorni sempre acceso non mi piace non voglio causare dei problemi non voglio rovinarlo quindi anche per questo motivo ho deciso di ridurre i video della settimana però comunque ce ne saranno sempre due adesso devo ancora ben capire quali giorni tenere se tenere il mercoledì e il venerdì oppure proprio stravolgere e scegliere non so il martedì e il giovedì non lo so io vi terrò magari più aggiornate più informate su instagram quindi lo so mi ripeto mi ripeto ma seguitemi su instagram anche perché ultimamente ho preso il via con le instagram stories che sto amando alla follia perché magari c'è in giornata il piccolo acquisto che faccio o una cosa che mi viene in mente che vi voglio dire subito e che poi se dovessi aspettare di girare un video me ne dimenticherei ve lo mostro vi faccio vedere sempre aurora come gioca cosa fa quindi ecco il fuoco è per questo che vi dico seguitemi anche su instagram perché se poi avessi altri problemi di connessione non riesco a pubblicare i video nei giorni che stabilirò e magari vi voglio dire un qualcosa di urgente lì o tramite instagram stories o tramite una foto vi aggiorno vi faccio sapere ovviamente instagram lo collego a facebook quindi chi non avesse instagram trova comunque delle info anche su facebook e basta sì questo è il nocciolo che volevo snocciolare con voi non so che che discorsi faccio e nulla ecco tutto qua ho voluto fare un vlog per dirvi solo queste due cosine però poi ne ho approfittato sapete che mi piace girare i vlog non ho quasi mai niente di così eclatante da mostrarvi però mi piace mi piace parlare con voi e ne approfitto nulla penso che il video finisce qui anche perché adesso devo andare a preparare la cena ad aurora poi devo preparare la cena per noi e poi basta poi relax io dopo cena sono distrutta in più devo ancora dare il latte ad aurora farla addormentare quindi vi saluto adesso che sono ancora abbastanza in forza non sono del tutto stravolta e stanca e si fuoco a me perché non mi dite che anche voi avete questa fotocamera e come funziona grazie no vabbè a parte gli scherzi è così me la tengo così non so magari la cambierò a breve o boh facendo i vlog se riesco uso la reflex vedo non ho mai provato a fare i vlog con la reflex ora che ci penso quindi magari il prossimo facciamo questo tentativo anche se il problema della reflex è il peso il peso troppo 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 pesante perché queste macchine fotografiche sono eccellenti sono fantastiche ottime però il loro problema principale è la pesantezza quindi non lo so vediamo 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 comunque io vi saluto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui se avete visto il video fino a qui sotto nei commentini magari lasciatemi così adesso c'è questa moda di lasciare faccine cuoricini e quindi mi ci metto anch'io anche perché così vedo se siete state attenti se avete visto tutto questo video chiacchieroso fatemi fatemi pensare il simbolo se avete visto il video fino a questo punto mettete un cuoricino la banalità però è anche un bel simbolo anzi no mettete la corona ecco la corona o cuoricino corona però la corona è più forse indicata per il mio canale visto che mi chiamo vale pinky princess in pink la corona è il simbolo mio preferito anche la stellina il cuoricino però la corona ok mettete una bella coroncina sotto nei commenti così vedo chi è stato attento chi è stato bravo magari facendo così se ci sarà un riscontro positivo nei prossimi video vedrò di organizzare dei piccoli premi così vi sprono anche a farvi sentire visto che alcune di voi ogni tanto mi scrivono non ti ho mai scritto un commento però oggi mi è venuto il pallino di dirti perché voi scrivetemi sempre anche perché sapete che io vi rispondo quindi se avete delle curiosità se avete qualsiasi cosa da domandarmi o da consigliarmi di tutto di più sotto c'è tutto lo spazio a vostra disposizione nulla ora la smetto veramente perché si è fatto tardi guardo in alto perché abbiamo qua in camera l'orologio quello come si chiama perché mi vado a complicare la vita quell'orologio che praticamente proietta l'ora sul muro e quindi guardo là perché proietta in quella zona e sì è ora di andare a preparare la pappa anche perché se no mi sgridano perché ho lasciato Aurora da mia mamma e quindi poi mi bacchettano mi dicono ai 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 devi preparare ad Aurora perché è già tardi no non è vero è una mezza verità comunque io vi do un bacio enorme ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao